Debutta nel 1999 da protagonista nel film di Gabriele Muccino, Come te e nessuno mai, nel 2001 ha il ruolo di Andrea, figlio dei protagonisti, interpretati da Nanni Moretti e Laura Morante nella stanza del figlio. Nel 2004 è il timido Paolo Pio, nel film Che ne sarà di noi, regia di Giovanni Veronesi, nello stesso anno debutta in televisione, diretto da Renato De Maria nei film TV Megre, La trappola e Megre, L'ombra cinese, a cui fanno seguito, La notte breve, 2006, film TV in onda su Rai 2, è la miniserie TV in sei puntate. Piper, 2009, regia di Francesco Vicario, in onda su Canale 5.